Presidente Ricci, segretari confederali bombardieri e sbarra, segretari generali Falcinelli, Garofalo, Pirani e Testa, è un grandissimo piacere essere con voi oggi alla presentazione del Manifesto Energia e Lavoro per una Transizione Sostenibile. Voglio ringraziare anche i sindacati Confindustria Energia per aver promosso questa iniziativa e il Ministro Cingolani per averla sostenuta con convinzione. Prima di dire alcune parole sulla sostanza del lavoro che presenterete, io credo che questa occasione di per sé sia per il modo in cui è stata strutturata, sia molto importante, sia auspicabilmente un esempio da seguire in tanti altri campi, in tanti altri settori, quello di una collaborazione tra tutte le parti che sono toccate da un evento. Questo evento, la transizione ecologica, ha un'importanza esistenziale per tutti noi come individui e per noi come Italia.